Il libro del profeta Abdiah è il più breve dell'Antico Testamento, appena 21 versetti. A un primo sguardo non sembra molto incoraggiante. Si tratta di una serie di testi poetici sul tema del giudizio divino contro l'antico popolo di Edom, una nazione confinante con Israele e situata sull'altra sponda del Mar Morto. Tuttavia in questo libro succedono molte, molte più cose. A ogni modo cominciamo a esplorare il retroscena. Il popolo di Edom conservava una certa unicità, in quanto condivideva degli antenati con gli israeliti. Entrambi appartenevano alla famiglia di Abramo, che aveva avuto con sua moglie Sara un figlio di nome Isacco. Quest'ultimo ebbe invece due figli con sua moglie Rebecca di nome Giacobbe ed Esau. Il libro della Genesi ci aveva raccontato la storia di questi due fratelli, i quali, per usare un eufemismo, ebbero un rapporto teso. In seguito essi ricevettero i nomi Israele ed Edom, che divennero poi i nomi delle famiglie da loro discendenti. Queste famiglie ebbero le stesse relazioni difficili dei loro antenati. Tra Israele ed Edom ci furono fortissime tensioni nel corso dei secoli, ma entrambe le famiglie condividevano comunque un legame derivante dai loro antenati. E fu proprio quel legame ad essere tradito e rovinato negli eventi tragici della caduta di Gerusalemme per mano di Babilonia. Quando Israele fu invasa e conquistata da Babilonia, il popolo di Edom approfittò della situazione per saccheggiare altre città israelite, catturando e persino uccidendo i rifugiati israeliti. Ora, in altri libri profetici, è ampiamente riportato che Dio aveva chiamato a rispondere le nazioni vicine a Israele per questo tipo di violenza e Abdiah qui fa lo stesso con Edom. Questo breve libro è diviso in due parti. La prima parte è una serie di accuse contro i leader di Edom, in particolare per la loro superbia e autoesaltazione, in senso letterale poiché vivevano sulle alture del deserto, ma anche in senso metaforico perché davvero credevano di essere superiori agli israeliti. Quella superbia non soltanto convinse gli Edomiti a non restare inerti quando Babilonia arrivò a distruggere Gerusalemme, ma di fatto li condusse a partecipare attivamente alla distruzione. Pertanto Dio dice per mezzo di Abdiah che Edom finirà per cadere dalle sue alture e sarà distrutta. Quello che hanno fatto a Israele sarà fatto a loro. Proprio quando immaginiamo di poter leggere di più sul modo in cui Edom incontrerà il suo destino, il tema cambia improvvisamente nel versetto 15. Ci viene detto che il giorno del Signore è vicino per tutte le nazioni. Perché questo passaggio repentino da Edom a tutte le nazioni? Questo versetto cardine collega la prima metà del libro alla seconda, in cui Abdiah annuncia il giorno del Signore, ma non solo per Edom, e infatti allarga il campo per includere tutte le nazioni. Abdiah dichiara che tutte le nazioni superbe, che agiscono come Edom, affronteranno la giustizia divina nello stesso modo. Precipiteranno giù dalle alture della superbia e cadranno in rovina. La combinazione di queste due sezioni, una su Edom e l'altra su tutte le nazioni, ci mostra perché Abdiah fosse tanto interessato a questo piccolo vicino meridionale di Israele. Abdiah vede la superbia e la caduta di Edom come un esempio, un'immagine di come Dio un giorno affronterà la superbia di tutte le nazioni e determinerà anche la loro caduta. Non è una pura coincidenza che in ebraico la parola Edom sia scritta con le stesse lettere della parola umanità, o in ebraico Adam. In Abdiah, l'ascesa e la caduta di Edom è una parabola di come la giustizia di Dio un giorno si opporrà alla superbia e alla violenza tra tutte le nazioni nel giorno del Signore. Ma come in tutti i libri dei profeti, il giudizio di Dio non è mai la sua ultima parola. In particolare, ricordiamo la conclusione dei due libri che precedono quello di Abdiah, Joelle ed Amos. Joelle aveva delineato un quadro di quello che succederà dopo il giorno del Signore contro tutte le nazioni. Disse che Dio avrebbe compiuto un nuovo atto di salvezza a Gerusalemme e che tutti coloro i quali si fossero umiliati e avessero invocato il suo nome sarebbero stati salvati. Nella conclusione del libro di Amos, il profeta rimarca che dopo che il giorno del Signore avrà giudicato il male di Israele, Dio rialzerà la casa di Davide e costruirà un nuovo regno per Israele, che includerà Edom e tutte le nazioni sulle quali è invocato il suo nome. Pertanto il libro di Abdiah è stato collocato subito dopo quelli di Joelle ed Amos per espandere queste stesse promesse di speranza nel regno di Dio in tutte le nazioni. Così il libro si conclude con una grande speranza per il futuro. Dio dice che ristabilirà il suo regno sulla nuova Gerusalemme e che la ripopolerà con un residuo del popolo rimasto fedele e poi da lì il regno di Dio si espanderà per includere tutti i territori e le nazioni intorno a Israele. E così questo breve libro contribuisce al ritratto più ampio della giustizia di Dio e della fedeltà che vediamo nei profeti. L'antica superbia e il tradimento del popolo di Edom diventano un esempio della condizione umana in generale e di tutti i modi in cui ci tradiamo e feriamo a vicenda nel mondo buono di Dio. Ma c'è ancora speranza, dice Abdiah. La caduta di Edom indica il giorno in cui Dio sconfiggerà il male nel nostro mondo e nello stesso tempo porterà il suo regno risanatore di pace in tutte le nazioni. Ed ecco di cosa tratta il libro di Abdiah.